Nissa Rugby al lavoro in vista dell'inizio della nuova stagione agonistica, ma con un solo neo. La rappresentativa nissena non può ancora utilizzare lo stadio Marco Tomaselli di Contrada Pian del Lago, visto che i lavori di posa del manto in erba sintetica non sono completati a causa dei disguidi legati al tracciamento delle linee di delimitazione. E per questo motivo la squadra sta utilizzando il campetto polivalente Michele Amari di Via Portella della Ginestra. La squadra maschile esordirà il prossimo 9 ottobre nel campionato di Serie C sul campo del Ragusa, attesa anche per la formazione femminile che disputerà la Coppa Italia di Rugby a 7. La squadra rosa della Nissa Rugby ha nel frattempo stipulato un accordo con il Ragusa che milita nella Serie A di Rugby a 15 e negli intenti della dirigenza nissena ciò dovrebbe permettere alle atlete di alzare il loro tasso tecnico e di esperienza. Naturalmente continua a tenere banco la questione Tomaselli e la dirigenza della Nissa Rugby ha manifestato preoccupazione qualora i lavori non dovessero concludersi entro l'inizio del campionato, in quanto la squadra resterebbe senza campo da rugby. In ogni caso i dirigenti nisseni auspicano che la situazione possa risolversi rapidamente per dare il via nel migliore dei modi alla stagione agonistica.